L'allarme era scattato a bordo di una motobarca ormeggiata presso la banchina a punta bianca del porto di Ponza per un incendio scoppiato a poppa che aveva coinvolto anche un membro dell'equipaggio rimasto gravemente ostionato. La preoccupazione di tanti isolani è invece rientrata quando hanno preso che quella appena svolta era fortunatamente un'esercitazione antincendio coordinata dall'ufficio circondariale marittimo di Ponza, un'attività che si svolge a cadenza periodica per mantenere alto il livello del personale preposto a fronteggiare questo tipo di emergenza. La cronaca. Licevuta la segnalazione, la sala operativa della Guardia Costiera attivava la macchina dei soccorsi. Giungevano sul posto i militari che, coordinate dal tenente di Vascello Antonio Sogno, insieme al personale della polizia locale, mettevano in sicurezza la zona bloccando il transito veicolare e pedonale. Successivamente una moto vedetta da Guardia Costiera si avvicinava in prossimità della motobarca avvolta alle fiamme, il cui spegnimento permetteva di recuperare il ferito presente a bordo che riportava gravi ustioni sul tutto il corpo. La centrale operativa al 118 poi inviava un'ambulanza dalla società Formia Soccorso che trasportava il ferito presso il locale poliambulatorio per le cure del caso. L'esercitazione promossa da Guardia Costiera ha avuto un esito positivo e ha permesso di testare i tempi di intervento mettendo in luce la grande professionalità di tutto il personale intervenuto dimostrando che a Ponza, anche durante il periodo invernale, resta alta l'attenzione per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!